pesando. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Siamo all'ultimo incontro di questo percorso con il professor Alberto Banaudi, che ringraziamo per la sua gentilezza per aver accettato il nostro invito. Lo ritroveremo nel mese di aprile, il 4 aprile, con Don Luca Peirong, a parlare nuovamente di intelligenza artificiale, sarà un incontro via MIT, quindi siete tutti invitati. Lascio la parola al relatore, ricordo che questo incontro è organizzato dal Polo Cittativa per l'Astigiano e l'Alvese, dell'Istituto Comprensivo di San Damiano, con Museo e Comune di Cisterna, con la Fra SPA, l'ISDRAT, la Libreria Il Pellicano di Asti e l'AINC. Grazie e buon ascolto. Buonasera, buonasera a tutti. Quella foto che prima si vedeva, non so se si vede ancora, io adesso per esempio non l'ho più inquadrata, però non è importante. Quella foto era una foto, se avete fatto caso, di praticamente una burla, uno scherzo. Vedete, c'è un uomo che si sta pesando sulla bilancia e c'è uno dietro che sembra, guardando anche il suo viso nello specchio, se guardate sulla sinistra della foto c'è uno specchio, che abbia un viso sostanzialmente afroamericano. È questo uomo che l'afroamericano sta mettendo il piede sulla bilancia mentre l'altro si sta pesando. Tanto per fare peso è sostanzialmente per burlarsi di lui. È interessante, non so se mi sentite bene, voi mi sentite bene? Sì, sì, ti sentiamo. Ah sì, non ci sono, perché a me ho un piccolo ritorno e che devo cercare di vedere se riesco a risolverlo, forse sì. Allora, no, dicevo, l'uomo che voi vedete, l'afroamericano, è Barack Obama, è stato Presidente degli Stati Uniti per due mandati. Questa è chiaramente una foto scattata, non certo al suo insaputa, è una foto scherzosa dove lui si diverte a mettere il piede sulla bilancia mentre probabilmente un funzionario della Casa Bianca si sta cercando di pesarsi. Ed è un'immagine così, tenetela presente perché magari dopo ci, magari ne parleremo. È un'immagine bufa, un'immagine, boh, di vita quotidiana se volete, no? Uno scherzo. Però è molto interessante. Adesso, dunque, dobbiamo finire questo discorso sull'individuum absolutum. Questa sera io toccherei sostanzialmente tre temi, tre temi che sono, diciamo, il titolo dei tre temi è il grande paradosso, il grande capovolgimento e la grande sostituzione. Quindi per dare un titolo, diciamo così, didatticamente facile da ricordare, no? Il grande paradosso, il grande capovolgimento e la grande sostituzione. Ci tengo solo a ricordare però una cosa per me molto importante. Il rapporto, abbiamo detto, voglio ribadire che il discorso sull'individuo, sull'individualismo, deve essere un discorso che è preso con le dovute cautele. Parlare di individualismo è semplicemente credere che questo possa avere un valore puramente morale. Sarebbe sbagliato, perché l'individualismo è sicuramente il prodotto di una cultura come la cultura occidentale che ha avuto comunque la grandezza e la capacità di valorizzare ogni singola persona, ogni singolo individuo. Questo è molto importante. Non è scontato e non è neanche presente in tutte le culture questa capacità di riconoscere il valore dell'individuo perché, ripeto, si parte dal riconoscimento del valore dell'umano e dell'uomo. Non bisogna mai dimenticare che la nostra cultura è il frutto della confluenza tra cultura greca, cultura ebraica e cultura cristiana. Atene, diciamo così, Gerusalemme, Atene e Roma si trovano e si intrecciano nella nostra cultura europea. E guarda caso queste sono le tre grandi culture che hanno saputo elaborare un'immagine dell'umano che forse altre culture hanno neppure lontanamente riconosciuto e compreso. Ed è qui che è nato, poteva nascere l'individuo e l'individualismo, soltanto in questa cultura. Quindi non possiamo, come dire, sputare nel piatto dove stiamo mangiando, perché l'individuo e l'individualismo sono in qualche modo anche possibilità straordinarie nella vita umana. Certo è che un eccesso di individualismo probabilmente ha portato la stessa cultura che ha prodotto questo fenomeno a riflettere e a chiedersi cosa è sfuggito, cosa non è andato, cosa non è andato bene. Beh, diciamo pure che non è andato bene il fatto che purtroppo nell'esistenza umana c'è sempre una tendenza a non saper riconoscere il giusto mezzo, a non sapersi fermare nel giusto mezzo, sicuramente. E del resto, già all'inizio del Novecento, un grande sociologo come Emil Durkheim aveva elaborato una coppia concettuale che è molto interessante, lui contrapponeva il sociale all'individuale e diceva che il sociale può essere paragonato ed è l'equivalente del sacro, del sacrale, mentre invece l'individuale è l'equivalente di profano, quasi come se sociale indicasse una dimensione superiore, è una dimensione, appunto, diciamo, sacra, alla quale l'individuo deve sentirsi appartenere e di fronte alla quale l'individuo si dovrebbe anche piegare, rispetto a quella che è appunto la dimensione dell'individuo, che è una dimensione, che potremmo dire, di puri interessi personali rispetto a quelli della ben più importante collettività. della ben più importante collettività. E quindi è molto importante questa distinzione fatta da Durkheim per capire come già all'inizio del Novecento si percepisse questo antagonismo, questa dialettica tra il collettivo e l'individuale, perché si stava percependo nel mondo occidentale una crescita esponenziale appunto dell'individualismo. Poi accenno già, forse è un grande motivo di questa crescita, è che la modernità, che ha dato pieno sviluppo a questo concetto, nasce in qualche modo all'insegna di una richiesta, di una grande istanza, che potremmo formulare in due parole, quella di avere più essere, più vita. L'individualismo nasce così, quando la modernità vuole e chiede di più, di più alla vita, più essere e più vita. È molto interessante, sarebbe interessantissimo approfondire questo concetto, ma se si guarda bene, da un certo momento in là, la modernità concepisce la felicità dell'uomo come una potenza, come un aumento di potenza, come un aumento di vita. E questo non può che essere in qualche modo vissuto e trovato attraverso un potenziamento dell'individuo e delle sue possibilità di vita. Ecco, tornando alla tesi di Durkheim, Durkheim dice che da una parte c'è l'individuale e dall'altra sociale, cioè da una parte c'è il profano e dall'altra del sacro. Del resto Durkheim ha fatto una tesi interessantissima anche sulla religione. Per lui la religione è in ultima analisi Dio, altro non è che una proiezione in cielo della stessa comunità a cui noi apparteniamo. Quasi come se il credere in un Dio comune, in una fede condivisa, in una regione condivisa, non fosse nient'altro che l'auto, potremmo dire, celebrarsi di una comunità che riconosce in Dio quel vincolo ultimo e assolutamente ineliminabile che unisce i vari membri, appartenenti a quella religione, a quel gruppo, a quella comunità. E questa è una tesi sociologica effettivamente molto interessante che varrebbe anche la pena studiare, anche perché io ripeto quello su cui voglio sempre che sia chiaro che quando io parlo di religione, di Dio, in termini sociologici, psicologici, filosofici, sto parlando appunto di quelle che sono le esigenze umane che portano alla creazione della religione, non sto parlando di Dio in sé, come se Dio fosse soltanto questo. Questo è un riluzionismo. Però è interessante questa dimensione della religione, come una sostanziale inclinazione della comunità ad autocelebrarsi. Ecco, Durkheim appunto diceva sacrale è il sociale, sacro è il sociale e profano è l'individuo, è l'individuale. Ecco questa però è una tesi molto pericolosa. Vi spiego perché. Prego contrapporre l'individuale al sociale, perché vuol dire manca un terzo termine, che è quello fondamentale. Perché? Che il Novecento abbia avuto una crescita esponenziale dell'individualismo a un certo momento in là, soprattutto nella seconda metà del Novecento è abbastanza ovvio. Perché quando si è visto che cosa i totalitarismi hanno saputo fare del sociale, del collettivo, è chiaro che la controtendenza non può che essere quella di celebrare l'individuale e la capacità di distaccarsi da un'appartenenza troppo forte a un gruppo, a una comunità. Però il problema è che bisognerebbe inventare un terzo termine, o meglio non bisogna inventarlo, bisogna semplicemente ritrovarlo. Che tra sociale e individuale c'è un terzo termine che è il relazionale. E cioè noi abbiamo cominciato troppo, ma da troppo tempo, da secoli ormai, forse qualcuno direbbe da millenni, a pensare che il termine di riferimento essenziale della identificazione di qualunque ente sia la sua sostanza autonoma e individuale. Già Aristotele diceva che cos'è una certa cosa? Beh, una certa cosa è Socrate, diceva. E poi quali sono le caratteristiche che la caratterizzano? Beh, Socrate è seduto, Socrate in piedi, Socrate è vestito, è calvo, è grasso, è magro, eccetera. E sta parlando con alcibiade o non sta parlando con alcibiade? Cioè in pratica si parte da un'idea che esista l'individuo, cioè la sostanza individua come punto di partenza di una qualunque definizione e che poi tutte le altre qualità, comprese le relazioni che questa sostanza individua intratiene con altre, vengano dopo. Cioè siano come nell'analisi logica, diciamo spesso, complementi di invece un soggetto. Qual è il soggetto? Dimmi qual è il soggetto, il verbo e i complementi. Ecco, forse in questa analisi logica si nasconde un nostro problema metafisico e cioè quello di non aver riconosciuto che in realtà l'individuo è molto meno forte di quello che immaginiamo. Noi siamo molto più relazione di quanto si possa immaginare. Perché il bambino comincia a esistere quando la madre gli sorride. Noi esistiamo quando gli altri ci sorridono ed è difficile immaginare che una metafisica profonda non possa, cioè non si ricordi di questo. Di quanto noi siamo relazione, di quanto noi siamo prima di tutto legati allo sguardo dell'altro. Lo sguardo dell'altro ci fa essere, ci fa vivere. Scherzando potremmo dire video, nel senso di passivo di video in questo caso, non nel verbo sembrare, ma sono visto ergo sum. Oppure amor, nel senso di sono amato ergo sum. Quindi così nasce il bambino nasce in una relazione e quindi più che individui bisognerebbe cominciare a parlare di condividui. Cioè siamo gente che condivide. Ed ecco perché appunto dicevo la mia riflessione alla fine non vuole nient'altro che ricordare questo terzo termine. Tra sociale, collettivo è individuale, c'è relazionale. Ed è il termine che dobbiamo riscoprire secondo me. Così come dobbiamo riscoprire il fatto che lo sguardo degli altri e lo sguardo forse anche di un altro con la maiuscola ci rende capaci di stare al mondo in una certa dimensione. Per esempio parliamo del grande paradosso, vi dicevo, la prima cosa di questa conferenza. L'altra faccia dell'individuum absolutum, se vogliamo, è proprio il conformismo absolutum. È curioso, questo sì che è un grande paradosso, ma come? L'individualismo che nasce sulla base della ricerca. Di più vita, di più essere, di più e quindi autenticità, capacità di esprimersi, capacità di essere noi stessi, finisce col conformismo. Questo è interessante. Ci sarebbero chissà quante soluzioni in questo, di quante interpretazioni. A me piace usare questa, cioè se non c'è più lo sguardo dell'altro con la maiuscola, quell'altro che ci faceva essere e ci faceva essere qualcosa dotato di valore comunque e sempre, in come noi siamo e come noi possiamo essere, e quindi il riferimento a un'alterità che ci trascenda viene meno, che può essere, notate bene, l'alterità di Dio, che può essere l'alterità della patria, della verità, della giustizia o anche della bellezza, di alcuni grandi valori che giustamente Nietzsche indicava come le stelle del cielo metafisico, che poi alla fine lui aveva dichiarato in qualche modo nella loro assolutezza morte dicendo che Dio era morto. Se la modernità comincia a dispiegarsi pienamente, di spiegare le proprie vele con questo motto diciamo Dio è morto, beh allora e con lui sono morte tutte le grandi stelle, allora non c'è più lo sguardo dell'altro, dell'altro con la maiuscola, e allora non può che rimanere per noi lo sguardo degli altri con la minuscola, cioè detto in poche parole i like, e scherzando potremmo dire è una società laica, ma questa volta laica lo scrivete l'ica con la k, cioè scherzando sul gioco che ho appena fatto di parole, è una società laica, fatta di like, per cui quando una società fatta di like, quando noi siamo troppo attenti allo sguardo degli altri, beh due passi dopo c'è il conformismo ovviamente, o peggio c'è quella forma di esibizionismo apparentemente originale che invece è la più terribile forma di schiavitù nei confronti del conformismo e nei confronti degli altri. Per cui l'opinione pubblica, il giudizio altrui ormai anche interiorizzato, pensate che addirittura già nella fine del Settecento si parlava di uno spettatore impersonale, ognuno di noi è come se l'agisse davanti a uno spettatore impersonale, è interessante. In pratica è chiaro, questo porterà sicuramente a comportamenti conformi, quindi è il bufo esito di un'idea che esalta l'autenticità, l'espressività, l'unicità, la singolarità e che ci porta, ahimè, in questa strana forma di conformismo, conformismo magari arcobaleno se vogliamo, multicolore, ma un conformismo di fondo che non può sfuggire a chi guardi attentamente. Viene da ricordare quell'episodio bellissimo di Rabelais in Gargantois e Pantagruel, quando ci troviamo, siamo di fronte a una sorta di abbazia, la cui regola era solo fac quod vis, faccio che vuoi, cioè ognuno poteva fare esattamente ciò che voleva, non c'era nessun divieto, nessun limite, nessun impedimento e neanche nessun tipo di obbligo in questa abbazia, uomini e donne potevano vivere esattamente come volevano, fatto salvo il rispetto degli altri. Quando si a un certo punto e il protagonista torna in questa abbazia dopo un anno, scopre che, un anno dalla fondazione, scopre che in realtà fanno tutti la stessa cosa. È interessante, ovviamente è anche interessante il fatto che in Rabelais questo abbia un significato positivo, perché Rabelais non aveva una riflessione, non stava riflettendo sul tema su cui sto riflettendo io adesso, lui semplicemente si era posto il problema dicendo, ma quale sarebbe la più perfetta educazione? Diceva, è un'educazione che invece che porre limiti, creare obblighi di vieti, più che altro invece che far usare l'energia alle persone o a trasgredire i dilietti o obbedire dei comandamenti che non sentono propri, semplicemente liberamente si affidino a ciò che viene dalla loro natura. Ma Rabelais credeva tanto alla natura umana e credeva che la natura umana potesse esprimersi in modo appunto naturale. Noi invece, almeno io per esempio, sono un po' più pascaliano e credo che per persa la prima natura, quel peccato originale, qualunque altra natura l'uomo potrà rivestire e a quel punto c'è il rischio davvero che il conformismo diventi un momento, anzi un pericolo letale. Comunque questo è per quanto riguarda il grande paradosso dell'individualismo, cioè grande individualismo, grande autenticità, espressività, notate bene l'autenticità e espressività che noi vediamo in qualche modo decantati in tutti i modi, anche per esempio il tatuaggio. Adesso io non mi sono fermato a fare una lunga disamina di questa strana cosa che è il tatuaggio, ma il tatuaggio è molto interessante. Quando una persona decide di scrivere o occupare una parte della sua pelle con un disegno, un disegno che perlomeno si vorrebbe o ci si immaginerebbe indenebile. È una scelta molto forte, molto radicale. In fondo rimanere con la pelle scoperta, la pelle nuda, vuol dire riconoscere in ultima analisi, un'appartenenza alla specie umana, per cui noi riconosciamo che siamo nati così, torneremo alla fine della nostra vita così, con questa pelle nuda, che è un segno comunque di accettazione, di accettazione di qualcosa che ci trascenda. Tatuarsi potrebbe essere già il segno di un individualismo crescente, perfino ingombrante, per dire io invece non accetto di appartenere alla specie, in un certo senso io mi tatuo, mi marchio e a qualche modo appartengo solo a me stesso. Ed è interessante, poi possono essere tante cose, oppure esprimo attraverso questo marchio, qualcosa di mio, di me, che deve essere espresso assolutamente in questa forma unica, sul mio corpo. C'è poi anche un aspetto interessante del tatuaggio, comporta sofferenza e in una società di giovani che non hanno più il rito di iniziazione, un po' di sofferenza, è una forma di iniziazione surrogata. Oppure pensate a quell'altro concetto che è la cultura gender che al cui cuore c'è la queerness, cioè l'essere queer, bizzarro, strano. Quindi ripeto, io non sto discutendo della cultura gender per quanto riguarda tutto il settore, tutto un ampio settore della cultura arcobaleno, che è quello per esempio degli omosessuali o degli stransessuali, i quali appartengono a pieno titolo alla vecchia cultura di genere, cioè sostanzialmente il transessuale per esempio che è Damasco, vuole diventare femmina, è il primo a riconoscere che esistono chiaramente delle differenze di genere, così come l'omosessuale che vuole vivere la sua omosessualità rimanendo esattamente quello che è. No, io sto parlando dei queer, al cuore secondo me della gender theory c'è proprio il queer, cioè il bizzarro, quello che decide a piacimento di essere un giorno una cosa e un giorno l'altra. Lì il cuore di quel tipo di idea secondo me è proprio l'iper individualismo, questo è l'individuum absolutum, questo dice decido io cosa sono, non permetto più che la natura, che è la mia anatomia, che i miei genitori, che è la società dicano cosa sono io, io dico cosa sono io. Poi a volte non bisogna anche tener conto di questo piccolo particolare, neppure io lo so, però questo chiudiamo la parentesi, ma io dico chi sono io, io decido chi essere. Ecco questo è l'estremo limite dell'individuum absolutum, che non si riconosce neanche più, non riconosce nulla più che lo trascenda, quindi neanche il genere sessuale. Addirittura a volte dietro la richiesta spesso insistente di ragazzi di questa cosa ci può essere anche il fatto, è una protesta a volte segreta, a volte inconscia nei confronti di un'eccessiva, ingombrante presenza del materno, a volte lo sfuggire esattamente addirittura al proprio genere sessuale, è un modo per dire qualcosa, cioè un modo per dire ma io, io dove sono, io cosa faccio, io chi sono. Potrebbero esserci mille ragioni psicologiche, non sto discutendo di questo, però certamente l'idea che si possa a piacimento decidere cosa si è, cosa non si è, può essere al di là del fatto che sia giusto o no, è un modo interessante per mostrare che cosa è diventato l'individuum absolutum di oggi. Passando al secondo tema che è il grande capovolgimento, questo è anche un tema interessantissimo, quello del fatto che la modernità, quella del secondo illuminismo, aveva sostanzialmente unito la scoperta dell'individuo, o meglio la riscoperta dell'individuo, a quella del valore dell'uguaglianza. Voi sapete che la modernità è nata all'insegno di questi due grandi valori, uguaglianza e libertà, che sono le due rive, le due sponde sostanzialmente contrapposte della modernità. Qualcuno ha cercato di unire le due rive con un ponte, il valore ponte della fraternità, però in realtà è un valore ponte che non è funzionato, perché uguaglianza e modernità si sono guardate da due rive contrapposte. E certamente l'individualismo ha molto a che fare con entrambe questi valori, perché? Con la libertà è ovvio, perché la libertà vuol dire ognuno gode di questi diritti e di questa libertà, diritti che appunto vengono percepiti come individuali, ma proprio a partire dal fatto che tutti gli individui sono uguali e quindi ciascuno è portatore di quel diritto di libertà. Ma è l'uguaglianza sostanzialmente il vero motore dell'individualismo, paradossalmente. Come aveva ben capito Alexis de Tocqueville, quando ha scritto la sua democrazia in America, dicendo che gli americani, proprio per il fatto che si sentivano solo in una democrazia nella quale tutti sono uguali e tutti sono percepiti come uguali, hanno potuto sviluppare meglio appunto il loro essere individui. Ciascuno ha potuto dispiegare tutte le sue energie e le le sue possibilità, la sua diritto alla felicità, che poi è un diritto evidentemente individuale. Capisce quindi che individualismo e uguaglianza sono intimamente legati, invece la postmodernità, proprio a partire da quelli stessi, da quell'impianto, da quella base, in realtà coniuga sempre di più l'individualismo con la disuguaglianza. Perché voi sapete che noi nella nostra contemporaneità stiamo assistendo a una crescita spaventosa della disuguaglianza. Siamo in un nuovo orizzonte culturale, nel quale si afferma veramente il nuovo paradigma della disuguaglianza. Voi potreste andare a vedere come tutta la modernità è stato un lungo canto e elogio dell'uguaglianza e del diritto di tutti di poter accedere a una serie di diritti politici, civili, sociali, eccetera. L'attuale mondo invece in realtà è un canto molto contraddittorio, perché nessuno vi direbbe mai che c'è un elogio esplicito della disuguaglianza, ma basta solo grattare sotto la superficie di tanti discorsi e la si ritrova lì, ben presente. Intendo dire, cosa voglio dire? La postmodernità sta scoprendo, insieme al suo individualismo che c'è nella ricerca di più vita, di più essere, quel sovranismo dell'io che porta l'io a voler in qualche modo disfarsi di tutte quelle regole sociali che in qualche modo impedivano ai singoli individui di spiegarsi pienamente. Oggi siamo in un clima che potremmo definire dal punto di vista economico e sociale neoliberista e il neoliberismo assolutamente fa della disuguaglianza un valore, assolutamente. Perché è giusto che individui diversi abbiano conti in banca diversi, abbiano potere diverso, detto proprio in maniera brutale. Anzi, noi sappiamo che a partire dagli anni Ottanta, quando Ronald Reagan e Margaret Thatcher hanno inaugurato la stagione del neoliberismo, addirittura si è arrivati a formulare frasi del tipo, come faceva Margaret Thatcher, la società non esiste, esistono solo gli individui. Quindi non è giusto che gli individui e i singoli individui, magari più ricchi e nel loro discorso perché più meritevoli, debbano in qualche modo pagare delle tasse o in qualche modo lasciarsi condizionare nella loro vita, nella possibilità di spiegare pienamente la loro vita e di ottenere e di godere del frutto del proprio lavoro, da una società, da un sistema politico che imponga loro delle tasse che servirebbero a salvaguardare, possiamo dire, la società, la coesione sociale. Questo è stato veramente il momento, la fine degli anni Settanta, in cui si è la rivincita della libertà sulla disuguaglianza, potremmo dire. Sarebbe interessante anche capire perché dalla fine degli anni Settanta ha cominciato questa rivincita, sarebbe anche secondo me interessante vedere quanto il valore dell'uguaglianza nel periodo precedente sia stato funzionale agli interessi dell'intera società, perché è una società industriale in cui le guerre sono ancora fatte dagli uomini, guerre di massa. È chiaro che il valore dell'uguaglianza è importante, perché se io voglio poter arruolare uomini per andare in guerra, se io voglio poter arruolare uomini per far andare avanti le fabbriche e creare quindi il ricchezza dell'economia, se voglio arruolare uomini sotto forma di consumatori perché facciano poi girare a pieno titolo quell'economia, io devo dare anche loro dei diritti o perlomeno qualcuno direbbe un contentino in termini politici e sociali per l'importanza che loro rivestono, per il luogo che rivestono nel far funzionare tutta la macchina. Quando invece a un certo punto non sono più così importanti nelle fabbriche, nelle guerre e dappertutto, certamente non saranno neanche più importanti per esempio nel voto o noi continueremo a dire che sono importanti, ma poi ce ne faremo un bel baffo di quello che loro votano, di quello che loro davvero vogliono. Non saranno poi così importanti nei diritti sociali, nel welfare state e allora perché dover far sì che i ricchi che ormai possono anche fare a meno di queste persone o del loro contributo o della loro alleanza lavorativa debbano pagare tasse perché loro possono godere di cure mediche o di pensioni e quindi il missile sta lasciando questo pezzo in basso che è quello delle masse che sono servite a far funzionare perfettamente il sistema fino a quel punto. Fino a quando sostanzialmente si è visto che nelle fabbriche poteva arrivare l'automazione, che nelle guerre poteva arrivare sistemi bellici che chiedono sì la presenza di uomini ma possono anche essere non così importanti gli uomini, insomma a quel punto è chiaro che gli uomini non serviranno più molto e quindi la disuguaglianza verrà meno e ritornerà in auge quell'altro valore che noi chiamiamo libertà ma che poi è la libertà di qualcuno di poter godere del proprio potere e di poter usare il proprio potere per condizionare anche tutti gli altri, attraverso per esempio le ideologie che si affermano in questa nuova fase, in questo nuovo paradigma in cui l'individualismo è declinato insieme alla disuguaglianza, il paradigma che vi dicevo noi chiamiamo quello del grande capovolgimento, per esempio quali sono le ideologie potenti che servono a mascherare questa disuguaglianza, una si chiama meritocrazia che è uno dei grandi miti legittimanti, che legittimano le disuguaglianze, riuscire a far credere al povero che è povero per colpa sua, perché non ha talento, perché non ha avuto abbastanza voglia, questo è un grande colpo di genio da parte di chi gestisce il potere, ecco perché la parola meritocrazia viene subito accolta tra l'altro dai giornali con grande entusiasmo e viene diffusa sostanzialmente con grande entusiasmo da chi sostanzialmente sembra non voler capire che se davvero si applicasse la meritocrazia in molti ambienti cambierebbero le gerarchie immediatamente, immediatamente, io penso, per esempio vi dico, quando sento la parola meritocrazia a scuola mi prende sconforto e vertigine, perché so già che cosa significa per lo più meritocrazia a scuola, significa premi per gli insegnanti, non per quelli che lavorano al mattino, ma per quelli che lavorano al pomeriggio e per me sostanzialmente voi sapete che se uno lavora al mattino e al pomeriggio sarei disposto tantissimo ad aumentare lo stipendio, ma purtroppo vedo che spesso non è questo il punto, basta lavorare al pomeriggio e poi se non lavora al mattino nessuno viene a dirti niente, questa noi la chiamiamo meritocrazia, finisco qua e chiudo la parentesi, questa non è meritocrazia, questa sarebbe una meritocrazia che individua i meritevoli di punizione più che altro, però non voglio discutere sul fatto che la scuola considera meritevoli gli insegnanti che si prestano il più possibile a fungere da cinghie di trasmissione di interessi o di cose che non riguardano davvero la scuola, non riguardano davvero l'educazione dei ragazzi, però non voglio entrare nel merito, nel merito appunto, stiamo parlando di merito. L'altra ideologia interessante si chiama walkness, ma cos'è la walkness? Cioè lo stare svegli, lo stare allerta è l'ideologia che appunto insegna e dice di stare sempre allerta nei confronti di tutte quelle realtà sociali, istituzionali che potrebbero nascondere vecchi pregiudizi, pregiudizi appunto che creerebbero disuguaglianza. Ecco il momento in cui massima la disuguaglianza economica e sociale nasce l'ideologia della walkness, stare allerta. Detto in poche parole è per esempio la cancel culture, la cultura della cancellazione. Quando noi leggiamo nell'Iliade che a un certo punto una battuta, c'è nell'Iliade una battuta in cui sembra che un guerriero dica ad un altro sei una femminuccia, ecco questa è una battuta chiaramente misogina, allora non leggiamo più l'Iliade. Oppure dall'altra parte c'è una battuta in cui sembra che ci sia un velato senso di razzismo o qualche aspetto, qualche condanna di qualche realtà che oggi noi riconosciamo invece come meritevole e magari giustamente di attenzione e di cura, allora cancelliamo il classico, togliamolo. Oppure quella cultura, la walkness, la cultura che sta molto attenta per esempio a condannare il patriarcato e qualunque forma di reale o presunto patriarcato in nome dell'uguaglianza, proprio mentre, nota bene, quindi una cultura che si batte per i diritti civili, per i diritti per esempio della parità di genere, per i diritti contro il razzismo e contro tutto quello che ha a che fare chiaramente con una cultura che potrebbe, provenendo dalla tradizione, potrebbe in qualche modo essere eccessivamente incapace, cioè di riconoscere il valore delle singole persone nel loro diversità, proprio mentre, quindi si parla di diritti civili, proprio mentre stanno scomparendo i diritti sociali. Io penso che quando una cultura non si renda più conto e quando i giornalisti facciano finta di non sapere che il vero problema è la gente che non riesce più a avere cure mediche, perché negli ospedali non ci sono più posti letto, non ci sono più medici, non c'è più la possibilità di avere una visita, se non aspettando 12 mesi, visite anche a volte importanti, urgenti e tutto questo non compare da nessuna parte, mentre compare quotidianamente l'articolo contro il patriarcato, contro l'omofobia, contro il razzismo, contro questo, contro quello, beh io penso che se un gruppo di persone intellettuali, no scusate intelligenti, perché intellettuale non è una bella parola, intelligente, non capiscono questo, beh è chiaro che non hanno capito che è avvenuto un totale capovolgimento, che siamo in un paradigma della totale disuguaglianza e che l'ideologia giustifica e addirittura mistifica e nasconde il crescere progressivo e quotidiano di queste disuguaglianze, mentre ci mette in bocca la parola per esempio che sarebbe la pacificazione universale di tutte le disuguaglianze, inclusione e finisco qui il secondo punto, inclusione non dico altro, allora inclusione di cosa? Inclusione mentre sta avvenendo la più grossa esclusione della storia di chi non ha mezzi economici per poter addirittura cedere a una cura, a meno della storia perlomeno degli ultimi anni e qualcuno ci dice ma non ti devi lamentare perché ai tempi di Giulio Cesare o ai tempi del Medioevo le cose andavano anche peggio, perfetto, perfetto, mi sembra come un bel ragionamento. Allora il terza cosa è la grande sostituzione, la grande sostituzione è quel tema dell'intelligenza artificiale, cioè che è presente chiaramente nel titolo ma giustamente la grande sostituzione, ma cosa intendiamo qui? Quando diciamo intelligenza artificiale voi sapete benissimo cosa intendiamo di tutto ciò che ha a che fare con algoritmi, con l'automazione, con il chat GPT se volete che è un'ultima manifestazione dell'intelligenza artificiale ma non è certo l'unica, i GPS sull'intelligenza artificiale ad esempio, chissà quanti altri servizi e applicazioni che utilizziamo sfruttando l'intelligenza artificiale che hanno reso la vita decisamente più comoda e decisamente più facile, diciamocelo pure, con l'individuo in assoluto. Ma beh è semplice, com'è che si è arrivati, vi dicevo già l'altra volta all'iPhone. L'iPhone è veramente, nasce sulla base di una richiesta, la richiesta sempre dell'individuo di poter avere il mondo tra le mani, un mondo a misura di questo individuum assoluto, di questo atomo. E la stessa richiesta di tecnologia parte in qualche modo da questo. Ora qualcuno mi potrà dire, ed è giustissimo, che molta della tecnologia che noi utilizziamo nasce prima di tutto in ambito militare, dopo arriva a noi, ma da noi si diffonde proprio perché c'è questa richiesta, la richiesta da parte degli individui di avere una facilitazione, di avere tutta una serie di comodità che permettono all'individuo in assoluto, di esprimersi davvero di più, con più libertà, con più agio, con più flessibilità. Non basterebbe dire il fatto che uno può andare la sera a prendere l'aperitivo, intanto tenendosi il telefonino poter contattare l'amico che sta prendendo l'aperitivo da un'altra parte e poi ritrovarsi con lui. Pensate a quello che accade grazie a questo, basterebbe semplicemente dire questo, pensa che bello. E dove lo possiamo collocare questa esigenza e questa richiesta? Beh, in quello che vi dicevo prima, nella grande domanda da cui nasce la modernità dal punto di vista etico-esistenziale. Avere più vita, più essere. Questo è ciò che cerchiamo e che vogliamo. Più vita e più essere. E la tecnologia sembra nascere proprio per questo. O meglio, sembra venire anche incontro a questa richiesta. Ovviamente non è nata lì e per questo inizialmente. Però certamente questa istanza di fondo, questa richiesta di fondo, questa grande esigenza di più vita e più essere, non può che aver incentivato la ricerca tecnologica, anche nella creazione di tutta una serie di applicazioni che non hanno nulla a che fare col mondo militare, ma che hanno a che fare con il mondo civile, la vita quotidiana, che servono a rendere la vita più facile all'individuo. Quindi l'intelligenza artificiale sicuramente nasce in questo contesto dell'individualismo. O meglio, nell'individualismo non può che trovare veramente il suo contesto ottimale. E non possiamo pensare che ciò che capita nel mondo delle abitudini morali, etiche, non sia in qualche modo collegato a ciò che capita nel mondo della tecnologia. Anzi, c'è una relazione bionivoca tra i due. Perché l'uno richiama l'altro, l'uno potenzia l'altro. Si tratta di un circolo, chiamatelo voi, vizioso, virtuoso, chiamatelo come volete. Però è interessante vedere come appunto con questa tecnologia, questa intelligenza artificiale, la storia possa davvero prendere anche una nuova piega. Infatti una bella domanda sarebbe, qualcuno dice, ma l'intelligenza artificiale è la fine della storia? Qualcuno direbbe, è il fine della storia? E qualcuno invece dice, no, è la fine della storia umana. Quando gli uomini cesseranno di essere davvero importanti nel decidere le azioni, nel compiere quelle che i greci chiamavano praxis, cioè che è poi l'azione soprattutto politica, perché qualcun altro o qualche cos'altro si sostituirà a lui nelle grandi decisioni. Forse qualcuno dice, sarà la fine delle democrazie, non sarà più necessario andare a votare. Basterà che gli algoritmi colgano e captino attraverso tutta la banca dati quali sono i veri desiderata della popolazione, si potrebbe benissimo creare un sistema, un governo che almeno apparentemente possa andare incontro loro. È interessante appunto l'intelligenza artificiale, poi ovviamente per tutti quelli che possono essere i suoi limiti e i suoi prezzi. A me piace parlare partendo dalla scuola. Per esempio, vi dicevo, ci sono molti cambiamenti nella scuola. L'altra volta dicevamo la centralità dello studente, chiamiamolo lo studente narciso, che deve in qualche modo essere al centro del discorso educativo. Lui quando apre i libri, quando lui entra in classe, non deve vedere, per esempio, qualche cos'altro. Deve trovare sempre se stesso. Narciso trova sempre se stesso, perché si specchia, si trova in uno specchio, indubbiamente. Ma sappiamo benissimo che il mondo, a misura di Narciso, è una sorta di eco, mondo eco, la eco-chamber, cioè la stanza dell'eco dove alla fine tutto quello che io vedo, dice, parla di me. E questo è, ripeto, è interessante e inquietante. C'è anche un altro aspetto che vi dicevo del cambiamento della scuola. L'altra volta dicevo l'irrilevanza della disciplina. Io ribadisco che questo è una cosa, un tema su cui bisognerebbe riflettere. L'irrilevanza della disciplina. Adesso io l'ho detto brutalmente. È chiaro che non troverete mai un discorso così brutalmente buttato lì. Perché dico l'irrilevanza della disciplina? Perché si ha l'impressione, soprattutto in certe discipline, che la disciplina si è diventata una specie di trompe d'oeil, cioè una specie di finestra dipinta. La disciplina dovrebbe essere qualcosa che ti permette di accedere al mondo. L'altra volta è quando io vi dicevo, al centro non ci deve essere nello studente o nel professore, c'è la disciplina. Ma cosa vuol dire la disciplina? Adesso mi spiego meglio. Non vuol dire qualcosa di fatto di regole, di nozioni, di cose brutalmente oppressive, come qualcuno direbbe, ma no, assolutamente. La disciplina è l'approccio, uno dei tanti approcci che gli uomini hanno trovato per guardare il mondo, la sua bellezza, la sua complessità, i suoi problemi, i suoi dinamismi, che permette all'individuo di accedere al mondo. Ed è, al di là dei suoi contenuti specifici, veramente una formazione a sviluppare un certo tipo di logico, un certo tipo di capacità, di conoscere i propri limiti, nell'approccio al modo in cui la disciplina si avvicina al mondo, e quindi, secondo me, la disciplina vuol dire dire la bellezza del mondo, vuol dire dire che c'è altro rispetto a noi che è molto interessante e siccome gli uomini da sempre vogliono in qualche modo avvicinarsi e conoscere questo altro, è giusto che anche i ragazzi capiscono, entrino in questa lunga, antichissima tradizione, che è quell'approccio a quell'altra cosa che è la realtà, quel mondo, che è più grande di noi, che ci trascende. E quindi quando invece la disciplina diventa un trompe d'oeuvre, cioè sostanzialmente una finestra dipinta sul mondo, per cui io faccio credere al ragazzo che stiamo studiando davvero quella cosa lì, è un ragazzo che sostanzialmente non ne ha colpa perché pensa che quella sia davvero la disciplina, con genitori felici che il ragazzo va alla scuola felice, che prende dei bei voti, anche se poi non si rendono conto che il ragazzo non sa niente di quella disciplina, ma che ha fatto semplicemente pratica di trompe d'oeuvre per un anno intero, sta succedendo secondo me qualcosa di gravissimo. Ma da cosa viene questo? Beh, sì, la centralità dello studente, o se volete c'è un'altra cosa che potrebbe essere interessante, il fatto che molto si insista sulle famose competenze, quando si dice noi non dobbiamo avere le conoscenze, ma le competenze. Questo, se ci pensate bene, vuol dire, siccome ormai le discipline diventano facilmente e velocemente obsolete, allora, siccome il mondo sta cambiando molto velocemente, allora noi non insegniamo più tanto i contenuti della disciplina quanto, e vorrei sapere come, delle competenze che possono, sembrano prescindere da nozioni e conoscenze. Dio solo sa come si possa formare una competenza in qualunque campo, senza partire dalle nozioni e dalle conoscenze. E quindi, io vorrei che qualcuno me lo spiegasse, perché francamente io non ho ancora capito questa cosa qui. Però è interessante il discorso di dire, siccome il sapere è facilmente e velocemente obsolescente, allora noi non dobbiamo concentrarci su nozioni, eccetera, ma sulla creatività, sullo spirito critico, sulle competenze, che secondo me sono cose bellissime, ma che si formano partendo dalle conoscenze e da una elaborazione critica di quelle conoscenze. Io su questo, abbiate pazienza, non ho dubbi, o almeno non ho più dubbi, o mi sono completamente sbagliato nella vita, ma non credo che si possa dimostrare il contrario. Però c'è un altro tema sul problema del discredito di cui stanno ormai godendo le discipline. Il fatto che c'è aria non solo di obsolescenza del sapere, ma di obsolescenza del soggetto del sapere, cioè dell'uomo, e cioè c'è l'aria della, e qui siamo al terzo punto, di grande sostituzione. Come dire, voi non servite più. Tanto ChatGPT sa già tutto, tanto queste cose qua, questo problema qua, è già risolto in un attimo dall'algoritmo, dal computer, da ChatGPT. Provate a immaginare voi, quando sapeste che doveste trovare a fare un lavoro difficilissimo, o per voi complicato e faticoso, sapendo che lì vicino c'è una cosa che potrebbe farlo molto più velocemente e molto meglio di voi, senza nessun vostro sforzo. Questo è quello che i ragazzi sempre di più sentono. E quindi qui c'è aria di grande sostituzione, perfino dell'essere umano. Possiamo dire che, scherzando, come nelle fabbriche siamo passati dallo sfruttamento all'irrilevanza, anche qua, sempre nel mondo del sapere, della scuola, si è passati dall'eccessivo affaticamento dello studio e della disciplina all'irrilevanza di qualunque studio, visto che tanto c'è qualcosa o qualcuno che sa già. Ma è l'irrilevanza dell'essere umano. Quindi si comincia a dire, intanto il rilevante è la forza fisica, lo facciamo fare al robot, il rilevante è la capacità di calcolo, il rilevante è anche il sapere nozionistico, il rilevante è saper fare i riassunti, il rilevante è saper fare i temi, il rilevante è saper risolvere i problemi di fisica e allora il rilevante è l'essere umano alla fine, cioè da questo punto di vista. E tutto questo è interessante, nasce nel contesto della ricerca di più vita e più essere, che è il contesto dell'individuo umano assoluto. Come dire, noi dovremmo trovare, abbiamo cercato qualcosa che ci facilitasse la vita in tutti i modi per permettere a noi, alle nostre energie di poterci dispiegare, poter sviluppare la nostra personalità, le nostre energie, magari in direzioni diverse rispetto a ciò che potrebbe essere il lavoro faticoso di spostare dei massi o Dio non voglia di risolvere dei problemi o di tradurre una versione di latino. Visto che è già tradotta, perché devo tradurla io? È già tutto tradotto. E allora voi dite, ma allora si può sviluppare il pensiero creativo del ragazzo. Bellissimo, no? Quindi dire, ma no, allora va bene, invece che tradurre in latino prova tu a scrivere un testo, ma in latino? No, perché non lo sai in latino. Allora prova a scrivere un testo di italiano creativo in cui dimostra la tua creatività. I ragazzi a questo gioco giocano volentieri, però poi i risultati sono chiari, sono assolutamente mediocri, perché la grande creatività e il grande livello critico e creativo si sviluppa certamente anche a contatto con lo studio di quello che è stato, con l'apprendimento a limite anche faticoso, ma che ti permette di entrare nei meccanismi di ciò che è stato fatto, di ciò che è stato prodotto in precedenza. E questo è quindi interessante, questo rapporto con l'intelligenza artificiale. Secondo me è molto interessante, perché alcune domande bisognerebbe farsele, non bisognerebbe essere né apocalittici né troppo facilmente integrati con questa cosa, perché l'essere apocalittico secondo me non so quanto possa aiutare di fronte a una cosa che tanto arriverà. E secondo me porterà anche tante cose interessanti, perché io penso a quanto possa aiutare in tante dimensioni e settori della nostra vita quotidiana, come di fatto fa già. Su questo io non ho dubbi, non ho proprio dubbi su quanto di positivo c'è in queste scoperte, che sono umane, sono cose fatte dagli uomini, non vengono da Marte. Sarebbe interessante però cominciare innanzitutto a porsi la domanda, ma che cosa sono queste intelligenze artificiali? Perché poi ci sono facili a volte risposte. Da una parte c'è quello che ti diciamo, questi sono l'intelligenza artificiale del futuro che arriverà addirittura a prendere il potere su di noi e addirittura ci farà fuori, sapete, sono storie fantascientifiche. Altri che invece ridicolizzano queste paure a dire, ma cosa vuoi? È come pretendere che il tuo cavallo sappia parlare della partita dell'Inter di ieri sera, no? Pensare che chat GPT possa davvero pensare. E infatti è interessante questa discussione, ci sono, possiamo dire, quelli che sono apocalittici, che dicono, caspita, l'intelligenza artificiale è la fine della storia. Ci sono invece i perfettamente integrati che ti dicono che è il fine della storia, cioè ciò verso cui noi tendevamo irresistibilmente. Trovare qualcuno che faccia tutta una serie di quei lavori che noi risentivamo pesanti e forse ormai inutili, per sviluppare nuova creatività e far sì che le nostre energie, che prima spendavamo in compiti a volte così penosi, possono essere indirizzate per esempio sui nuovi campi, alla creazione magari di nuovi lavori, di nuove discipline, tutto è bellissimo. Io penso però che si debba collocare come sempre nel giusto mezzo. Mi spiace qui essere così aristotelico, ma il giusto mezzo è quello di chi sa vedere gli aspetti positivi, sa porsi anche le domande sui possibili rischi. E sa porsi per esempio anche questa prima domanda, ma chat GPT pensa davvero? Perché se voi avete già provato a interagire con lui è molto interessante, è straordinariamente interessante, è capace di darti in pochissimo tempo risposte articolate che a volte fai fatica a trovare nelle migliori classi, in un liceo, per cui tu dici ma cosa è avvenuto? Beh chat GPT, noi sappiamo qualcuno lo definisce un pappagallo statistico, cioè semplicemente non fa nient'altro che andare a visionare tutto quello che c'è in rete su quel tema e ne fa una specie di risunto statistico di quello che tutto sommato sono le informazioni che vanno per la maggiore sul sito, sul web. Pappagallo statistico, qualcun altro dice, beh è un'espressione un po' riduttiva per chat GPT perché chat GPT non è stato, le risposte che lui vi danno sono nate da programmazione, attenzione, è qui che comincia a diventare inquietante la cosa, ma da addestramento. Chat GPT non nasce solo per programmazione, c'è un momento di programmazione, ma c'è molto di addestramento, quello che viene chiamato ormai il deep learning, cioè l'apprendimento profondo. Sono state costruite delle reti neurali profonde, artificiali, le chiamano reti neurali, che a strati riescono a, a destrate per esempio a vedere tante immagini di un certo tipo, alla fine piano piano a imparare a riconoscere in un'immagine un cane, a imparare a riconoscere una persona, una faccia, a individuarle in mezzo a altre milioni di facce o mille facce. Queste sono cose portentose, ma queste nascono da addestramento, non nascono solo da programmazione. Questa è la grossa differenza di questa nuova intelligenza artificiale. Ed è per quello che i ragazzi non possono che essere attirati dall'utilizzo di questa chat GPT nel fare un tema, perché a volte le risposte che vengono date sono assolutamente in linea con quelle che è il sapere che si trova sul web. Sì, bisognerebbe dire che a volte c'è rischio un po' di conformismo, perché effettivamente pescando da tante informazioni che sono sul web e su quelle che vanno per la maggiore, chat GPT ti dà alla fine una risposta che potrebbe essere un po' troppo conformista. Credo che se nel 1859 avesse dovuto valutare l'origine della specie di Darwin, l'avrebbe bocciata, perché in effetti allora con le informazioni che avevano sarebbe stato davvero impossibile accettare questo tipo di sapere. Come dire, l'uomo qualche volta potrebbe davvero batterla e io credo proprio di sì, che si possa davvero batterla. Però è interessante come di fronte a questa domanda, ma pensa o non pensa? Pensa davvero o non pensa davvero? Simula, come qualcuno dice, ci sono alcuni filosofi che dicono, è solo una simulazione di intelligenza. Qualcun altro dice, aspetta, è molto più vicina alla produzione di pensiero intelligente che alla simulazione di pensiero intelligente. Ma del resto io penso che un insegnante questa domanda se la sia già posta di fronte a certe interrogazioni, ma questo sa tutta memoria, simula intelligenza o è intelligente? E quindi scherzosamente potremmo dire che ci sono degli studenti che sono quasi la pari di chat GPT su certe cose. Sto scherzando, ma non troppo. Perché anche capire cosa significa pensare davvero sarebbe un capitolo della filosofia molto molto interessante. Perché se noi dovessimo dare, cosa significa pensare? Molto spesso se ci pensate, quando noi parliamo, quando noi rispondiamo a certe domande, quando i nostri studenti rispondono a certe domande, hai l'impressione di parlare senza che il tuo pensiero ne venga poi toccato poi in profondità. Hai l'impressione di ripetere. E c'è qualcosa di simile in noi a chat GPT. Per cui qualcuno giustamente dice questa è la grande quarta ferita al narcisismo umano. Pensate, la prima fu quella di Copernico, che ci buttò fuori dal centro del sistema solare. La seconda fu Darwin, che ci disse che eravamo come scimmie, che siamo fondamentalmente animali. La terza è quella di Freud, che ci dice che l'io non è neanche padrone a casa sua. Per cui c'è l'inconscio che lo domina. La quarta è questa. Siamo stati, come dire, anche ormai raggiunti, per non dire tra breve, surclassati cognitivamente. Perché noi almeno mantenevamo questo primato. Siamo noi gli esseri che pensano. E che invece chat GPT è qui che insidia questo primato. Ora, io non sono così addentro a queste cose qua, però mi piace pensare che questi problemi inquietanti ci debbano dare da pensare. Però è interessante una cosa. Ricordarsi, secondo me, quello che io penso è questo. Chat GPT, diversamente da noi, non ha un corpo di carne. L'avere un corpo di carne vuol dire avere desideri, paure, pensieri, vuol dire avere quella caratteristica tipica della mente umana che è l'intenzionalità. Cioè il nostro pensiero è sempre volto verso un oggetto, ha sempre un'intenzione. Io posso pensare a un ricordo, posso avere una tristezza, ma il mio pensiero si intenziona verso quell'oggetto, quell'oggetto di pensiero. Io ho tanto l'impressione che invece l'intelligenza artificiale non abbia l'intenzionalità. Come non abbia né desideri né tristezze per adesso. E credo che non sia difficile che ce le abbia, fino a quando non avrà un corpo di carne. Perché è il corpo di carne che si è evoluto in un mondo, in un ambiente naturale, con i suoi pericoli, con le sue attrattive, con le sue bellezze, che può davvero sentire, percepire e quindi volere. Chat GPT non vuole. Noi vogliamo. E questo è una differenza immensa. Ora a questo punto, ricordandosi questo, trattiamo pure Chat GPT come se stesse pensando. Va benissimo. Anzi, utilizziamolo come un assistente. Potrebbe essere uno straordinario assistente, come era diventato un assistente la calcolatrice, anche se non dobbiamo usare questa analogia, perché la calcolatrice è una cosa, Chat GPT è un'altra. Chat GPT è molto più invadente, terribilmente invadente, con le sue risposte. Però è interessante imparare, secondo me, a vedere i suoi rischi, che sono evidentemente quelli di poterci in qualche modo manipolare con certi algoritmi, perché io penso per esempio, pensate il rischio, faccio solo un esempio, il rischio in campo medico di alcuni algoritmi legati ad alcuni sensori biometrici, decidono che tu possa in qualche modo ricevere delle cure mediche solo se hai condotto un certo tipo di vita. Se non hai condotto una vita sana, tipo se tu ti sei lasciato cadere sul divano e la sera hai mangiato troppe patatine guardando la televisione, non avrai diritto alla cura. Il sensore biometrico è lì, grazie a tutti. Se non hai fatto l'algoritmo e tu non sfuggi, lo sa e le cure non ti arriveranno, l'ASA non accetterà di curarti, perché tu non ti sei riguardato bene. Certo, giustissimo, però se la persona in questione è una signora che lavora tutto il giorno in un lavoro che non gli piace, arriva a casa e l'unico piacere che ha o finto piacere che ha è quello di buttarsi su quel divano e mangiare le patatine, che gli dà la sensazione di essere viva o di non essere completamente priva di piacere nella vita, la cosa diventa un po' più complicata. Il rischio che quell'algoritmo sia un algoritmo che favorisce chi ha un certo tipo di vita sana e cioè che alla fine ha anche certe possibilità che altri non hanno. Eccoci qua, è l'algoritmo cui discrimina, ma potrebbero essersene tanti altri esempi, del resto per esempio l'algoritmo della guida autonoma, si potrebbe impostare e chiedere alle persone, secondo te come noi impostiamo l'intelligenza artificiale delle macchine a guida autonoma? Che quando vedono 10 pedoni, una scolaresca che sta attraversando le strisce pedonali, si fermi per non investirla e piuttosto faccia un incidente o devi da un'altra parte causando la morte semplicemente del conducente dell'auto, invece che dei 10 bambini che stanno attraversando la strada. Tutti sottoscriverebbero una cosa del genere per la macchina degli altri. Ed è lì che sarebbe interessante capire quando diciamo ma i valori dell'algoritmo, sì ma il problema è quali sono i valori umani come sempre e scopriremo di nuovo che c'è dietro l'uomo, queste cose qua c'è sempre dietro l'uomo, i suoi pregiudizi, i suoi interessi, le sue intenzioni, l'uomo fatto di carne e quindi anche questo su certi rischi dobbiamo fare molta attenzione cercando di capire da dove nascono. Non voglio dilungarmi su quelli che sono chiaramente tutta una serie di rischi anche a scuola, l'utilizzo indiscriminato di queste cose qua, propongo semplicemente due cose. Uno di riconoscere che senza corpo di carne, chat CPT non sarà mai un'intelligenza umana, mi spiace lo dico, mi assumo la responsabilità di quello che dico, casomai tra due giorni vi scriveranno sul giornale che non è così, ma temo che sia come dico io, fino a che non c'è un corpo, non ci sarà una vera intelligenza. L'idea che ci possa essere un'intelligenza disincarnata è secondo me un'idea sbagliata. Un'altra cosa è che dobbiamo forse anche cominciare ad attrezzarci, insegnare ai nostri ragazzi a fare, trattare con chat CPT, cioè l'arte delle domande. Che domande farai a chat GPT e la chiamano già quest'arte prompt engineering, cioè l'ingegneria della provocazione. Che domanda gli fai? Che tipo di domanda gli fai quando parli con chat GPT? La capacità di spremerlo e riuscire a farlo parlare in un certo modo piuttosto che in un altro. E poi sarebbe bellissimo insegnare ai ragazzi a fare le domande a cui chat GPT non è capace di rispondere. Ma proprio per mancanza di dati, per mancanza di capacità di collegamento, lasciarlo lì in silenzio per delle ore. Mi è capitato di vederlo. Ha fatto certe domande di rispondere 12 ore dopo con una risposta assolutamente banale. Perché la domanda non rientrava in quello che si aspettava lui. Infatti era semplicemente una domanda che non era la classica domanda che si trova dappertutto. Quindi insegnare un po' di psicologia di chat GPT, la psicomatica, magari un po' di retorica per trattare con chat GPT, la retormatica, l'argomentomatica, cioè cominciare forse anche a provare a interagire. Come dice alla fine, giustamente qualcuno, dice imparare a interagire, ma per imparare a interagire, giustamente ha detto un grande esperto dell'informatica, bisogna continuare a scrivere, possibilmente a mano. E questo mi fa ridere, perché dice che la scrittura a mano è quella che ci rende capaci di argomentare, di dare una linearità e un ordine al nostro pensiero. È un primo capacità di controllo che è fondamentale per non diventare schiave di chat GPT, cioè per fare in modo che impariamo, come dice, a fare in modo che chat GPT sappia servire, non a servire. E qui cito Don Luca Peyron, col quale si parlerà ad aprile, che trovo interessantissimo, quando per esempio dice, ho letto un suo articolo bellissimo di questo prete che lavora a Torino, alla Cattolica di Milano e vuole insegnare ai giovani a interagire con spirito critico, ma con spirito sereno con questi strumenti come chat GPT. Quando dice, lui dice, bisogna che nel futuro, bisogna sapere che non vincerà la legge del più forte, ma la legge del più vivo, cioè di chi ha mantenuto in vita questa nostra intelligenza solo umana. Ed è per quello che ovviamente non posso che finire spezzando una lancia a favore non delle materie STEM, quelle, sapete, tecnologie, scienze informatiche, ma delle materie HUM, Humanities, quelle dell'umanità, che sono quelle che in questo momento sono richiestissime, secondo me, dal tipo di società che si sta profilando. Ah, finisco. Cosa c'entrava la foto con Obama che mette il piede sulla bilancia? Avete visto, no? Quella foto è complicatissima da capire. Troviamo un Presidente degli Stati Uniti che scherzosamente mette il piede sulla bilancia dove c'è un tizio che si sta cercando di pesarsi e il quale vedrà comparire un peso sicuramente superiore rispetto al suo e magari proverà anche angoscia di fronte al fatto che sarebbe ingrassato di qualche chilo con quel piede che gli ha messo Obama sopra. E vedete che tra l'altro c'è uno specchio sulla parte sinistra, sul lato sinistro, ci sono persone dietro che guardano e probabilmente ridono. Questo è quello che potrebbe essere, dice, una scenetta divertente. Beh, sappiate che ChatGPT non potrà mai capirla. Fino ad oggi non può capire questa scena. Perché come si fa, per esempio, come fa a distinguere, capire che quella persona che si vede di là è uno specchio? Lui che è stato addestrato a riconoscere le persone, guardate che capire che è uno specchio non è facile. Oppure perché deve pensare che c'è qualcuno che sta scherzando e soprattutto non può neanche capire che l'altro è sulla bilancia, perché quei pixel bianchi per lui non avrebbero poi il significato di bilancia. Che noi invece vediamo benissimo, basta capire quel piede dietro di Obama e si capisce immediatamente che è una bilancia. Ma non lo capiamo attraverso l'ironia, lo scherzo. ChatGPT gli stanno insegnando, notate bene, interessantissimo, anche il buonsenso vorrebbero insegnargli, che lui ancora non ha. Ma lo humore lo trovo un po' più difficile. E poi soprattutto il desiderio, quel desiderio che è tipico di un corpo incarnato, non so quando sarà mai possibile. Quindi dall'individuum absolutum finiamo sperando che questo individuum più absolutum si riconosca un individuum in relazione con gli altri e sappia capire che il tempo che ci aspetta è un tempo dove bisogna ritrovare la relazione e la capacità di relazionarsi tra uomini, tra umani. Accettando forse anche di vergognarci un po' per il fatto di essere solo uomini in carne ed ossa, ma forse è questa la nostra grandezza. E quindi peraltro sapendo che dovremmo morire e quindi siamo invitati, sentendo veramente l'invito potente della vita all'essere vivi, proprio dal fatto che siamo condizionati da questa nostra mortalità. Io ho finito, sono già stato fin troppo lungo questa sera, vi ringrazio dell'ascolto. Grazie, come sempre. Se ci sono degli apprezzamenti al tuo intervento, se ci sono delle domande, Simonetta Paola Ferrero se vuole leggere il suo intervento. Non sono domande, però... Scusate, lo che ne avevo perso. Ma no, semplicemente quando parlavo di meritocrazia mi veniva un po' da ridere perché in combinazione abbiamo fatto una riunione di istituto la settimana scorsa in cui il direttore ha esternato il fatto che le valutazioni individuali fatte finora negli anni passati hanno provocato disuguaglianza e competizione, per cui è stato un danno per l'istituto. Per cui da quest'anno ci cambia il tipo di valutazione che fa per gruppo, per ufficio, in modo appunto da evitare queste distorsioni. Volevo sapere cosa pensava il professore. No, sì, io dico che è interessante, la cosa veramente, l'esperimento più interessante è che ci siano voluti degli anni per capirlo. Cioè che questa cosa qui avrebbe creato semplicemente dei dissapori e nessun potenziamento del lavoro dell'istituto o dell'azienda. Ripeto, io che per mille ragioni posso anche capire il problema vero del merito, della meritocrazia, però so che è inutile, utopico immaginare che possa essere applicato in un certo modo, con un certo rigore, ma in assoluto, qualunque sia il criterio di valutazione partendo dalla meritocrazia. Io sarei più per una demeritocrazia, cioè semplicemente segnalare quando ci sono chiari abusi o chiare mancanze da parte di qualcuno. Più che quello di voler premiare dei migliori, io guarderei più che altro, mi guarderei da quelli che abbassano troppo il livello complessivo di un istituto non lavorando. Ecco, io penso che quello sarebbe già un buon criterio. Mi stupisce che non si sia capito che invece facendo delle valutazioni, apprezzamenti che darebbero più visibilità o renderebbero in qualche modo più bravo o più bello qualcuno, che possa davvero questo valere qualcosa. Anzi, vale semplicemente a scoraggiare gli altri. E magari persone che lavorano quotidianamente e molto bene, ma semplicemente non hanno le physique du rôle del mettersi in mostra, del salire sul palcoscenico o del dedicare delle ore in più aggiuntive, perché magari non può, perché per impegni familiari fa già i salti mortali per poter garantire ai propri studenti una lezione dignitosa, una lezione seria. Poi troppo spesso, visto che i premi vengono dati, ripeto, agli insegnanti del pomeriggio, cercate di capirmi, no? Io invece sarei di quelli che insiste molto sull'insegnante del mattino. Poi ci sono anche cose del pomeriggio che valgono, valgono nella misura in cui davvero sono, come dire, coerenti con il lavoro del mattino. Sono in qualche modo aggiunte, potenziamenti, anche cose nuove, del tutto nuove, ma che non vengono minimamente a ridurre e a ledere il lavoro, cioè in qualche modo a risultare lesive del lavoro del mattino. E invece purtroppo questo lo vedo spesso. Grazie, la stessa conclusione a cui è arrivato il nostro direttore. Sono contento, buon segno. C'è una domanda al superuomo di Nice e l'individuo assoluto? Non ho capito la domanda, sì? Superuomo di Nice e l'individuo assoluto? Certo, certo. Il superuomo di Nice sarebbe stato anche questo, una bellissima incarnazione dell'individuo assoluto, esatto. Del resto Nice aveva letto, diciamo anche segretamente, Stirner, Max Stirner, l'unico e la sua proprietà. Stirner è stato l'inventore dell'anarchia filosofica, è colui che ha dato dell'individuum assolutum la prima straordinaria definizione. L'unico, che sarebbe ciascun singolo, ciascun individuo, è la sua unica proprietà, che dice è il suo corpo. Questo è quanto esiste. Io esisto e non esiste nello Stato, nella Patria, nel Dio, nelle umanità. Tutte queste sono astrazioni inutili. Esiste solo l'individuo, esiste solo l'unico e la sua proprietà. Nice lo ha letto questo libro e lo ha anche consigliato, sappiamo benissimo, a un suo alunno, poi non l'ha mai citato, perché giustamente i grandi rubano, sono i mediocchi che copiano, quelli come me che citano, devono citare gli altri, i grandi, ma loro invece rubano, prendono un autore, se lo saccheggiano, se lo rielaborano in maniera quasi riconoscibile e poi tu te lo ritrovi, non sai più che lui l'ha letto. Invece è proprio questo. Il super romano inizia è l'individuum absolutum, che addirittura è arrivato a accettare pienamente, anzi godere e considerare un evento lieto la morte di Dio, cioè la morte di qualunque limite valoriale, etico, esistenziale che potesse in qualche modo frapporsi tra lui e la sua assoluta novità della sua potenza, della sua realizzazione. Peccato però che Nice avesse già intuito che dopo la morte di Dio ci sarebbe stato più che il super uomo o l'oltre uomo come possibilità, l'ultimo uomo. E l'ultimo uomo chi è? È quello che lui dice, saltella sulla superficie della terra, vaga qua e là, crede ammiccando con i suoi amici di aver inventato la felicità, rende piccolo tutto ciò che tocca ed è fondamentalmente l'uomo contemporaneo, cioè quello che noi diremmo il consumista, oppure il turista di massa che va in tutti i porti del mondo e di fronte alla bellezza estrema di quello che può vedere invece che saper godere e far proprio di quella bellezza rischia di trasformarla forse in qualcosa di più piccolo. Io penso, non so, a vedere una mostra. pensate, non so se avrete notato, andare a vedere un museo, a volte ci sono dei quadri che ti potrebbero attirare la tua attenzione per delle ore, e vedere le persone che ci passano davanti senza quasi vederli, o dando l'occhiata, dicendo, ah sì, è quello famoso, eccetera, eccetera. Forse quel quadro, voi direte, no, non c'entra niente, forse direbbe inizia, però è un po' più brutto. Una specie del contrario di remida. Tutto quello che tocca all'ultimo uomo lo rende un po' più brutto, un po' più piccolo. Quindi è interessante la riflessione sul rapporto con inizia. Non ci sono altre domande, se volete farle potete farle direttamente, però ci sono molti a prezzo. Ah, Luca Nibaldi, prego. Buonasera a tutti. Ciao, Alberto. Ciao, ciao, Luca. Devo dire che, insomma, sulla questione dell'intelligenza artificiale mi trovi d'accordo, sia sul fatto di non demonizzare né sull'essere, insomma, catastrofisti. Però ci sono alcune questioni che mi hanno, come dire, fatto pensare e andare un po' indietro col tempo, con i miei studi, insomma, un po' di cose. Ad esempio, nel Natural Language Processing, che credo che tu in qualche modo abbia confrontato, conosciuto, uno dei, appunto, dei quesiti, una delle questioni aperte era la programmatica, cioè il fatto che comunque noi umani riusciamo a capire se, ad esempio, io adesso dicessi, ah, ho visto passare un pinguino, magari mia moglie chiude la finestra perché lo capisce c'è un freddo, cosa che invece, diciamo, per le macchine, ma perché, appunto, l'apprendimento viene fatto, chiaramente, per riportarsi a determinati schemi. E quello che, comunque, alla fine è più, forse più critico, non so, più preoccupante è la questione di unire sia la, appunto, l'addestramento per classificare, classificare, ma, diciamo, quando il soggetto da classificare sono gli umani e quindi qua mi ricollego alla questione della misteritocrazia e allora è lì che diventa preoccupante perché, ad esempio, nel mondo del lavoro ormai è da qualche decennio che ci sono stati introdotti dei sistemi di, come dire, di metrica delle performance, no? Soprattutto, chiaramente, di metriche fisiche, no? Di quanto siamo in grado di, di quanto tanto velocemente quanto, ad esempio, non so, i rider o i magazzinieri di Amazon e così via. Certo, certo. Ma anche gli impiegati, anche le persone che, i programmatori, quante righe di codice riescono a fare, quanti bug introducono e così via. E questo è, sì, è preoccupante perché nel momento in cui non c'è un, un supervisore umano che riesce, appunto, anche a discernere fra l'impossibilità di poter andare oltre, ad esempio, un certo obiettivo, insomma. Certo. E questo che, diciamo, ed è anche il motivo per cui, ad esempio, nel mondo del, del, del lavoro, quindi nel sindacato, ci sono diverse istanze per, eh, non lasciare mano all'applicazione di certi tipi di strumenti. Sì, sì, parole sacrosante. Infatti, tra l'altro, c'è, ci si poneva anche in sede europea la domanda quanto permettere a queste telecamere, a questi rilevatori biometrici di dati di poter entrare negli ambienti di lavoro, di poter entrare nella scuola, perché addirittura ci sono rilevatori di emozioni, cioè, si rischia di raccogliere dei dati di una, voglio dire, intimi, eh, che potrebbero essere utilizzati chissà come e chissà quando, cioè, no, ma infatti, qui bisogna proprio, devo dire che l'Europa almeno si sta ponendo la domanda appunto di creare una legislazione, almeno la domanda se la si pone, altrove pare che la domanda non se la ponga affatto. Eh, no, giusto, giusto. Ci sono delle altre domande? No, non ci sono, ma ci sono grandi apprezzamenti per l'incontro, per il tuo intervento, e lascio le conclusioni a Tiziana, vi aspettiamo il quattro settembre. Grazie, tanto saluto tutti, colgo l'occasione. E grazie di avermi seguito, e spero che, ecco, che ci siate con Don Luca, Don Luca Perono, perché ho capito che è una persona di valore che sa, secondo me, affrontare queste cose con grande garbo e con grande competenza. Peraltro, devo dire, faccio di noi complimenti a Cisterna, che è il gruppo di Cisterna che riesce a organizzare incontri con personaggi significativi come lui. Noi siamo mosche e cocchiere, cioè, ci facciamo belle con il lavoro degli altri. Tu sei uno di quelli che ha creduto di più nel nostro progetto e che lo sostiene da anni, e per questo ti ringraziamo, perché ribadisco, in un mondo che monetizza tutto, noi abbiamo la fortuna di avere le persone che collaborano con noi, e che collaborano gratuitamente. E questa è una cosa davvero speciale e strana. Ti ringraziamo, perché da anni presto voi gratuitamente. Voi siete le prime a non guadagnarci, diciamola tutta. E quindi, come si fa a voler monetizzare quando si va a Cisterna, scusami? L'ordine della pura bellezza. Va bene. Su queste parole chiudiamo ringraziandoti ancora e ci rivediamo il 4 aprile. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie Giovanna, grazie Luca, grazie a tutti quelli che mi hanno seguito. Grazie. 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 Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Complimenti. Ciao, ciao. Ciao.